ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di canzoni imperdibili qui a radio puggini on air oggi vi vorrei parlare della canzone la musica che gira intorno di ivano fossati la musica che gira intorno è un brano scritto e cantato da ivano fossati nel 1983 ed incluso nell'album le città di frontiera la canzone diventerà presto un marchio rappresentativo del cantautore ligure e affronta il tema dei pregiudizi e delle preclusioni mentali dell'uomo che non permettono il progresso culturale civile della collettività sociale la musica che gira intorno fu anche un singolo di buon successo ed è diventata una delle canzoni simboli del cantautore ligure tanto da essere pressoché sempre presente nelle scalette dei suoi concerti nonché inclusa in diversi album dal vivo fossati ha raccontato che la canzone venne scritta in brevissimo tempo e che come singolo ebbe un successo inaspettato tanto da spingere la sua casa discografica a rimandare il tour e mandarlo in tv per 23 volte in poche settimane proprio fossati dice cosa che nella vita non avrei mai pensato di fare e non ho mai più rifatto ivano fossati non ha mai amato spiegare nel dettaglio il significato delle sue canzoni ma alla musica che gira intorno è dedicato lo spazio più rilevante della lunga intervista di contemporaneo il box di 10 cd pubblicato nel 2016 quattro anni dopo il suo ritiro dalle scene è una canzone che ho sempre portato con me volentieri mi ci riconosco sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo tutto è equilibrato la musica che gira intorno non è una canzone che parla del potere della musica in realtà spiega fossati che alla fine mi sono fatto l'idea che sia un ritratto della generazione dei trentenni di allora dei trentenni degli anni 80 che però si trasferisce bene ai trentenni e quarantenni di oggi non eravamo disorientati come molti ragazzi di oggi però era l'inizio insomma una canzone che parla della confusione di una generazione può essere che sia quello che ci gira intorno la musica la politica il costume il cambiamento dei tempi o può essere che non arriviamo a capire che abbiamo davanti una barriera e non riusciamo a toglierla dai nostri occhi può essere che sia colpa nostra dice riferendosi al maledetto muro citato nella canzone forse le diversità intese come politiche religiose sessuali e razziali sono ancora motivo di guerre e di incomprensioni dovute proprio a questo ipotetico muro citato nel testo che non permette agli uomini di superare i preconcetti ed accettare quindi un qualcosa di nuovo o di non simile alla propria idea di normalità una barriera mentale quindi di cui la musica intesa come arte in questo caso può essere una efficace arma atta ad abbatterle per favorire la condivisione e la fratellanza la musica infatti è stata da sempre riconosciuta come una forma d'arte in grado di superare ogni confine facilitando l'incontro tra culture e razze differenti fossati con questo brano invita ad abbattere questo muro mentale per il bene della vita sociale dell'ente dell'intera umanità la musica che gira intorno infatti per l'artista genovese non ha futuro ovvero la situazione attuale non agevola il progresso culturale l'autore quindi punta il dito sull'inaffidabilità dell'essere umano e sulle sue difficoltà nell'accettare e nel comprendere le novità il diverso infatti crea sempre insicurezza nel comportamento di uomini poco propensi ad affrontare una realtà sconosciuta l'autore però invita la coerenza e dalla forza di volontà per superare questi intoppi mentali ed incomprensioni che nascono proprio perché le anime e quindi le persone funzionano nello stesso modo in ogni parte del mondo diventa quindi dovere di tutti impegnarsi per non precluderci un futuro che potrebbe riservare una vita migliore per l'intero tessuto sociale del mondo insomma la musica che gira intorno è un vero capolavoro che rappresenta tutta la grandezza di uno dei più grandi esponenti del vero cantautorato italiano la musica che gira intorno fu anche il titolo del programma di fiorella mannoia di poco tempo fa proprio perché la canzone è sempre attuale dice proprio la mannoia abbiamo preso in prestito il titolo di questa canzone perché è stata l'ispirazione a quello che abbiamo cercato di mettere in scena in questo show la musica gira intorno a noi è l'unica forma d'arte che ha questa peculiarità di rievocare il passato le canzoni scandiscono la nostra vita ce n'è una per amori nati e per quelli finiti per i profumi per le sensazioni per i sapori le cose importanti della vita sono sempre accompagnate da canzoni che girano attorno a noi però vorrei soffermarmi per un istante sulla frase più importante di tutta la canzone saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro forse la frase più bella che è stata mai scritta una delle frasi più belle mai scritte e della frase centrale della canzone che fossati dal vivo accompagnava sempre sottolineando che non è la musica che gira intorno a noi ma quello che abbiamo in testa noi facendo cantare al pubblico la parola muro e lo dice anche la mannoia parlando anche del programma la musica che gira intorno abbiamo il muro ancora adesso che ci separa dagli altri quello che non ci permette di entrare in empatia quello dell'indifferenza e della paura quello della paura forse è quello più grande abbiamo tanti muri da abbattere non solo quelli fisici ma anche quelli mentali insomma spero che questa canzone vi sia piaciuta che andrà che avete scoperto una canzone che vi ha potuto fare far riflettere e se avete altre canzoni da consigliarci potete scriverlo scriverle nei commenti e buona musica e ci sentiamo alla prossima puntata di radio puggini on air ciao